Ciao a tutti, avete visto il mio video dedicato a Ennio Morricone? Se avete, qui c'è il link. L'idea era di quotare Clint Eastwood e Sergio Leone's film alla fine del video, imitando l'occasione sicurale. Ma guardate questo video fino alla fine e troverete il motivo di questo video. Enjoy my bloopers! Sembri braccio di ferro, sembri che in bocca ha un cuscino! No, così non va bene. E come si fa? Secondo me ha un sigaro più piccolo. Prova... Eh, no! No, no! Eh, non c'è modo. Non sono capace. Non c'è modo, a proprio che le musici erano enormi... E non c'è nulla! No!